Due giorni sulla splendida costa del Cilento, da Agropoli a Castellabate per la quarta edizione del raduno nazionale per canoe kayak da mare. Benvenuti al sud, organizzato dalle associazioni I Trezeni del Mediterraneo Kayak, Love Kayak e Kayak Agropoli con il patrocino del Comune di Agropoli. Evento turistico sportivo che ripercorre in due giorni le rotte degli antichi trezeni, abili navigatori del pelo ponneso che trovarono rifugio nel VI secolo a.C. sul promontorio dell'attuale Tresino, utilizzando poi, quale porto naturale, l'attuale area del Vallone di Agropoli. Manifestazione dedicata a Giovanni Caccavo, storico kayaker salernitano, venuto a mancare quest'anno, a cui è rivolto anche il grido Molon Lab, che per l'associazione dei Trezeni significa si combatte fino alla morte senza mai arrendersi. Bellissima, quest'acqua è meravigliosa, già c'era stata, ma vale la pena di tornarci perché non si finisce mai di scoprire questa parte dell'Italia. Tutta questa zona di Agropoli, anche più a sud, adesso andiamo a Ogliastra. Insomma, siamo molto contenti. Adamo Coppola, vice sindaco di Agropoli, è felice alla partenza. Tanta gente che partecipa a questo raduno nazionale, chiamato Benvenuti al Sud, tante persone che vengono da fuori, dal nord Italia, a trovarci per fare una splendida passeggiata in mare tra Agropoli e Ogliastra Marina. È molto importante che in collaborazione con queste associazioni, in questo caso ringraziamo l'associazione Kayak di Agropoli, si organizzano questi eventi perché lo sport è un'eleva importante per mettere in moto meccanismi virtuosi nel campo del turismo. Le persone seguono le loro passioni e girano per trovare luoghi nuovi. Noi speriamo veramente che oggi le persone che sono venute ad Agropoli e che faranno questa splendida passeggiata sulle nostre coste possano poi innamorarsi dei nostri luoghi e tornare perché noi in altre occasioni venirci a trovare. Raduno nato quasi per gioco quattro anni fa, come raccontato dagli organizzatori Leopoldo Catena, Giovanni De Lucca e Alberto Iannotta Musto. Siamo veramente soddisfatti. Quest'anno abbiamo scommesso per un salto di qualità, abbiamo voluto dare un taglio diverso al raduno, farlo diventare raduno nazionale. Io direi che ci siamo pienamente riusciti. Io sono veramente contento di stamattina dei risultati perché le persone sono giunte da tutta Italia, da Livorno, da Bari, da Roma, da Anzio, da Viterbo. Abbiamo iscrizioni da tutte le parti d'Italia.